No, ho visto in televisione, sta pubblicità di sto anello, non ho capito se si mette sul pisello. Ma perché il tuo ragionamento va subito a finire lì? Chi è? Perché il problema serve, magari è una cosa che si può trovare. Hai fatto una gran pubblicità, non so se l'hai vista. Padre fedele, so che tu hai fede, quello che mi dai tu, non me lo dà Gesù. Ehi, padre fedele, so se mora bene, se non mi aiuti tu, ti aiuterà Gesù. Che buone! Un canarino, in mano un bestancino, un piccolo bambino, e mezzo trapezino, un grosso palloncino. Un canarino, in mano un bestancino, un piccolo bambino, e mezzo trapezino, un grosso palloncino. Ehi, padre fedele, non so che lei ci vede, ma se me lo richiede, disorba la mia crede. Ehi, padre fedele, finché abbiamo fede, finché nessuno chiede, per me lei è un gran prete. E allora, tutta è una borgia, la borgia o la vita, la borgia di Milano, la borgia di Toglio, 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 la borgia di Potrai rientrare a casa alle quattro, alle cinque, alle sei E con il tuo ragazzo potrai farti delle belle chiamate giovanili Ho detto giovanili, lo confermo, giovanili Che sei fedele, lo so che sei fedele 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 Davvero Eva, però te butti fa monaca Guarda, come misura andavi bene Non mi piace Però te fanno i cazzi d'oro Dai, quelle fuma, te trucca, te pigni i capelli Che credi? Sotto va un cazzo Ha il colore dei capelli sta Ce le vede Che ce potevi fa? Eh? Eh? Perché? Ma te uffia Saresti sposata col signore? No, no, viaggia Chi, signore? Non vuole che mi viaggia Ma sposare il signore, sì Niente? No, no Non sai mona che avete fatto il signore? Perché Eva? Perché me viaggia